se non siamo vicini scriviamoci dei bigliettini quelli colorati incollati e stropicciati ma quando ci rivedremo con la loro lettura ci emozioneremo con la tecnologia lo so anche la voce ci aiuta però con il tablet e il pc anche i nonni vi staranno vicini e quando i tori saranno al lavoro basterà uno squillo sonoro per risolvere ogni dubbio o per scaricare una caccia al tesoro ma quando il cuore triste avremo non c'è tecnologia che lo renderà sereno solo un abbraccio di mamma e papà lo rasserenerà e le maestre sapranno aspettare il vostro sorriso il momento per farsi coccolare perché anche per i grandicelli la cosa che conta è non avere i cuori a brandelli tutti insieme ancora saremo quando a scuola torneremo